ecco era giusto per finire l'ultimo pezzo della camera delle mie meraviglie eravamo rimasti a questo pezzetto qua questo ve l'ho descritto eravamo rimasti lì in alto ripeto quella scatola lì che ci sono dei prodotti travel size per per portare in giro quando si viaggia lì c'ho varie cose random è una scatola vecchia di mia socia ma è bellissima dalle rose mi piace sta bene lì per me e quindi delle cose random in questo primo cassetto i prodotti nuovi da testare oppure da regalare o da proprio anche da da usare io del mio brand lì ci sono ecco che ci sono degli ombretti mono varie cose di là ci sono tutti i miei fondi una parte perché una parte cielo di là nel nella postazione di là ci sono dei rossi rossetti matitoni e rosetti tipo si rossati anche malte che ce ne sono un bel po qualche lucida labbra ma non so se c'è lucida labbra ora non mi ricordo bene va bene qui ci sono ciprie cosa sono questo è un primer della nix sono varie cose random fissante bb cream ideano qui ci sono le mascara e poi lì in quel cassetto cielo illuminanti ciprie varie di là ci sono come si chiamano caspita che ora non mi viene la parola qualche illuminante per il contouring lettere ecco poi qui da qui in poi cioè da da quel cassetto fino in giù e sono tutta roba di smalti ultimo cassetto invece si roba di smalti ma c'è anche lì depositate smaltini piccoli roba nella e l'arceli è un casotto allucinante quindi questa parte e questa parte qui di qua dovrei anche revisionarla un po anche guardarmi un po perché ce n'è troppa roba e di sicuro qualcosa sarà andato anche ci sarà seccato perché i smalti si seccano ok giro la telecamera giusto per salutarvi questo è il mio video tour room anzi non vi ho fatto vedere la parte di sopra c'è di fronte al alla postazione di sopra della postazione make up c'è uno specchio dove ci ho messo delle rose line che guardate c'è un'angarina alle presi dai cinesi così giusto per abbellire un po la stanza e poi ci sono dei quadri buzzetti e poi un quadro bello questa è